Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, non era in programma per vedere la mia giornata di allenamento e dato che i gestori della pista sono miei fan su youtube, ho deciso di fare questo video anche per far vedere a tutti questa nuova pista Grazie a tutti 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 Grazie a tutti